eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questo appuntamento giornaliero tanto per mancare anche ieri sera nuovo aggiornamento interno per quanto riguarda black ops 4 1 ogni giorno dal lancio bene vediamo che cosa è successo con la patch del 25 di ottobre innanzitutto hanno introdotto alcune traduzioni mancanti per quanto riguarda il mercato nero e le playlist all'interno di zombies sono stati introdotti due nuove playlist pubbliche dedicate alle mappe classified e blood of the dead ed è stata rimossa la playlist precedente inoltre hanno realizzato questi aggiornamenti per pc all'interno di blackout è stato risolto un problema un exploit che permetteva ai giocatori di attivare spesso la tuta alare utilizzando una chiave dal tastierino numerico della tastiera e quindi si poteva utilizzare la tuta all'area anche mentre si camminava risolto un problema che permetteva ai proiettili addirittura di attraversare alcune rocce all'interno del multiplayer è stato risolto un problema che causava un arresto anomalo quando si cambiavano praticamente determinati pezzi all'interno del paint shop questo praticamente è quello che è successo con l'aggiornamento di ieri poca roba ma nuove correzioni e fixe inoltre la Treyarch ha annunciato che questa sera arriverà il mercato nero su tutte le piattaforme come sapete la settimana scorsa si è attivato su ps4 questa sera alle ore 19 il mercato nero arriverà su xbox one e pc con la season 1 operation first strike quindi contrabbando che offrirà contenuti cosmetici gratuiti da sbloccare in modalità multigiocatore e blackout incluse varianti armi, gesti, abiti personalizzati per i nostri specialisti, biglietti da visita, adesivi e tanto altro ancora mentre sabato si attiverà l'evento Halloween anche per le restanti piattaforme quindi sempre su xbox one e pc ovviamente le date saranno differenti perché come abbiamo visto l'evento Halloween è iniziato una settimana fa su ps4 quindi terminerà prima su ps4 mentre su xbox one e pc proseguirà per una settimana perché ovviamente è arrivato una settimana dopo vi ricordo che la prossima settimana arriverà anche un corposo aggiornamento che andrà a modificare tutte le armi del gioco se vi siete perso il video andatelo a vedere l'ho rilasciato ieri sera qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate lasciate un bel mi piace per supportare il tg informativo di call of duty e noi ci vediamo ad un prossimo video